buongiorno va io niente torniamo a discutere del jjrc il drone che comunque sia sta facendo abbastanza successo ultimamente a me non me ne ha fatto tanto perché è caduto e appunto voglio aggiornarvi su quello che riguarda i miei aggiornamenti che voglio fare su questo drone sarebbe uno è questa piccola cosa un bel ma bella un bel gimbal nuovo indovinatevi che cos'è e dello spark poi ovviamente il gps questo gps qua è dotato pure di glonass ed è solo per renderlo un pochettino in più stabile e poi infine saranno questi questi qua sono sempre dello spark però siccome i colori abbinano come potete vedere anche se non copio tutti gli spazi non fa niente e niente speriamo che come si dice la batteria non fa certi scherzi e che dire mi hanno detto di un aggiornamento del software del firmware non non lo sto riuscendo a trovare anche perché penso che non ne ha fatti proprio però vi terrò aggiornate perché sto guardando con altri miei amici se riesco a trovare il firmware è un consiglio con questo drone non volate a gradi sotto lo 0 perché può essere che oltre al collasso della batteria è stato causato sicuramente dalla temperatura perché quel giorno io volavo praticamente a meno 4 gradi o tenete calda le batterie o non fate volare proprio il drone la cosa migliore comunque con questo è tutto con il mio gg rc distrutto è tutto ma tra poco sorpresa proviamo a vedere come va è una prova e non garantisco che funzioni non garantisco niente però spero che vavi ciao a io stato bello